Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, grazie e pace di Dio nostro Padre sia con tutti voi. Ascoltiamo la lettera ai filippesi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi benedica Dio onipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Anche se eri senza peccato e non hai fatto nulla per essere punito. hai sopportato tutto, hai sopportato tutto, hai sopportato tutto con pazienza, abbandonando tutto alle mani del giudice giusto. così hai preso sull'albero della croce, perché noi, morti al peccato, possiamo vivere nella giustizia. e ci insegni a rimanere nel tuo amore per ricevere la grazia della vita nuova. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Non permettere, Signore, che ci allontaniamo da Te nei nostri problemi e nelle nostre difficoltà. Tu sei l'unico pastore di cui voce riconosciamo, di cui voce vogliamo seguire. Fa che possiamo sentire la Tua voce anche nei momenti più difficili. Fa che non diventiamo sordi a causa del dolore, ma perché dentro di noi risuoni sempre la Tua voce, la voce con la quale ci inviti venire da Te. Buon pastore. Buon pastore che cerca quelle perdute e le fa ritornare nella grazia dell'unione. Grazie, Gesù. 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 Alleluia Alleluia Siamo qui, Signore, davanti a Te Tu sei benissimo che cosa ci opprime E di che cosa abbiamo bisogno Tu conosci i nostri bisogni meglio di noi stessi Donaci i Tuoi doni, Signore Versa su di noi la Tua grazia perché possiamo essere rinnovati Per essere liberati dei vari legami E guariti da varie malattie Sì Tu, Signore, la nostra consolazione nella quale non ci mancherà nulla Perché in Te, Signore, non possiamo mancare in nulla Benedici tutti noi e guariscici, Signore Chi riei e lei sono 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 Voi, vostre famiglie e tutti coloro che sono nella vostra preghiera Benedica Dio Onipotente Padre, Figlio e Spirito Santo Amen